Uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità anche per oggi per quanto riguarda il futuro di fortnite soprattutto in questi giorni da poche ore è iniziato il nuovo concorso la nuova sfida che vedrà i migliori pescatori del mondo giocarsela a colpi di canne da pesca per portarsi a casa un vero e proprio trofeo direttamente da epic games nel video di oggi però parleremo anche dei premi un pochettino che forse sono passati inosservati non esiste solo il trofeo per i migliori ma ce ne sono anche altri magari potrete provare a vincerli e parleremo anche dei primi oggetti natalizi arrivati direttamente in game con un micro aggiornamento che piano piano ci lascia trasportare fino alle festività natalizie vi ricordo che non ci sarà fino a febbraio una season 2 di fortnite ma vivremo il natale in questo capitolo ed epic games si è già messa alla grande al lavoro ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie grazie mille ragazzi per passare un pochettino di tempo insieme e grazie anche a tutti quelli che vogliono supportarmi con il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima la domandina come al solito ve la voglio fare voglio leggere le vostre risposte vi ringrazio per aver scritto due giorni fa nei commenti del post proprio qua sotto domanda di oggi molto molto personale ma qual è il tuo punto preferito per atterrare nella mappa oramai dai la conosciamo tutti a memoria questa mappa stiamo cominciando a capire anche i punti strategici io ultimamente sto droppando direttamente al motoscaffo di putrido pantano quello vicino al mare atterri lì se non c'è nessuno ti prendi il cestino prendi il motoscaffo se c'è qualcuno e poi ti giostri un po la partita comunque filandotene di prepotenza dimmi invece qual è il tuo punto di atterraggio qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere allora una serie di immagini molto interessanti vi ricordate che avevo parlato proprio dopo la patch di mercoledì dell'evento che succederà a rapide rischiose il camion che porterà via lentamente tutte le macchine beh il camion ha un nome ragazzi nei file di gioco si chiama galileo vi avevo fatto vedere l'immagine non renderizzata ma eccola qua invece l'immagine giusta il camion è questo qua non guardate quello che c'è indietro intorno il paesaggio non c'entra niente ci saranno anche delle scavatrici che probabilmente contribuiranno a togliere tutti i veicoli presenti a rapide rischiose qui stiamo vedendo infatti quello che succederà lentamente l'ultimo veicolo ve lo ricordo verrà tolto il primo gennaio del 2020 quindi non sappiamo bene quale sia la motivazione di togliere tutti i veicoli rapidi e rischiose potrebbe far parte di un evento di questa season oppure no lo scopriremo solamente nei prossimi giorni e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi beh non poteva che essere la nuova gara di pesca è iniziata ieri alle ore 14 terminerà lunedì alle 2 del mattino quindi avete tantissimo tempo in cosa consiste questa gara di pesca beh ragazzi niente di difficile giocate le partite in singolo prendete una canna da pesca e iniziate a pescare prepotentemente più pescate più avete la possibilità di vincere un premio il premio in questione ragazzi è proprio questo e non è un poster è un lama tridimensionale bello grosso che epic games invierà solamente al miglior pescatore dei del proprio server quindi brasile oceania asia america nord est e nord ovest europa europa le categorie la prima la più importante secondo me chi pesca più pesci in una singola partita aggiornato a ieri il record è 88 sì 88 io sto a 61 non è assolutamente facile poi ci sono le varie categorie chi pesca più pesci in assoluto piccolini chi pesca più pesci in assoluto flopper e prelibapesce ovviamente in assoluto quindi non in una sola partita ma durante tutto il periodo di pesca ma ce n'è un'altra di categoria esiste ragazzi finalmente il pesce mitico per adesso l'hanno pescato solo in quattro c'è una possibilità veramente rarissima di pescarlo ma se lo pescate otterrete automaticamente un piccone che dovrebbe essere quello che vi ho mostrato in copertina quindi l'ancora che invece che essere arrugginita è dorata quindi tanta tanta roba ragazzi non abbiamo ancora però un'immagine da una fonte ufficiale quindi prendete con le pinze anche il disegno e vi auguro ovviamente di pescarlo mentre questo invece sarà lo spray che regaleranno a tutti probabilmente al termine dell'evento quindi martedì prossimo uno spray commemorativo molto carino niente di eccezionale però è sempre un regalo ben gradito e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi volevo parlarvi appunto del natale beh se non lo sapete è già presente in game non pubblicamente ma nei file di gioco l'autobus di natale che inizierà probabilmente una settimana prima del 24 dicembre di solito dura così e sta su per un paio di settimane perché il team di epic games se fa come ha fatto negli anni precedenti va in vacanza e quindi da natale all'epifania non dovrebbero esserci aggiornamenti voglio farvi vedere il video anche con la musichetta di sottofondo se andiamo a trovarlo eccolo qua lo ascoltiamo insieme un po malinconica insomma ragazzi la musichetta di natale che ci accompagnerà fino appunto alla fine dell'evento ma non è l'unica cosa come avevo anticipato ci sono degli oggetti che già sono apparsi in game ad esempio a corso commercio è apparso il primo avete presente le casette di legno che trovate nei mercatini natalizi beh dovrebbe essere proprio questa ragazzi quindi casettina in legno che probabilmente insieme ad altre addobberà piano piano tutta corso commercio e quindi creerà un'atmosfera natalizia sicuramente molto carina ma non è l'unica cosa apparsa di nuovo se andiamo al ai moli molesti credo dentro uno dei container sono presenti le renne di natale queste le abbiamo già viste anche l'anno scorso in alcune case io ricordo quelle di parco pacifico adesso sono tutte accatastate ma non ho dubbi che riusciremo a vederle molto presto nelle case sparse per la mappa insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao